Signore e signori, benvenuti sulla nuova puntata di Fortale su 4 Allora, case d'aste, come potete vedere, non mi sono giudicato un cazzo di nulla Infatti ho perso l'asta per una Ferrari F40 Ho comprato però a dei prezzi ridicoli Una A45MG Che ho potenziato arrivando pieno intorno al migliaio di cavalli Una S2 918 Ve lo faccio vedere Siamo esattamente a... Non me lo dirà mai Visualizza auto Non penso valga neanche così Non fa niente, va bene, dai, non fa niente Non c'è problema, non c'è problema Visiasta Ok, offerta superata Cosa c'è qua? Audi RS2 Vediamo un po' a che prezzo sta l'RS2 Non è tanto Non è tanto ma mi fa ben cagare Cioè mi piace tantissimo ma mi fa cagare da guidare su sto gioco Ci servirebbe, secondo me, sapete cosa? No Impostazioni Audio Voglio diminuire un po' La radio Aumentare al massimo Per sentire un po' più il motore Uguale rumore E' ancora troppo alta la radio Per i miei gusti Mi piace più sentire il rumore Un gioco come questo Che ha questo suono fantastico Cioè Signori Se ti trova? E' uguale E' uguale E' uguale Abbiamo fatto un po' di casino Auto Vediamo un po' cosa c'è da potenziare qui L'auto auto viene votata ovunque passo Tieni immediatamente 2.000 influenza Io questo lo faccio sempre Perché mi sta simpatico Well spin Ruota della fortuna Vito Horizon Non abbiamo nulla Mappa globale Mi crude il naso Scusatemi davvero Scusatemi Ma sto per aprire Abbiamo una nuova Gara qui? L'esibizione? Paghiamo questi 10.000 Ma io ci voglio andare lì Cioè praticamente I soldi che abbiamo guadagnato Facendo la gara Abbiamo già buttato Bene Ma sentite Per ora è la più bella Come suono Attenzione Prudel naso Sempre Circuito Festival Horizon Cambio auto 20 personalizzati Circuito Sceglierò per forza Ah Solo questa Non sapevo che in base alla propria auto Uscissero le gare Mi sono vestito un po' da fighetto Giusto per far capire Chi ha veramente il classe A Dai Bella macchina Ero arrivato Lì lì Per comprarla La classe A45 Poi non mi ha convinto Dalla terza in poi Mi è sembrata un po' moscia Poi Bah E ho comprato tutt'altro Opa Frena Facciamo anche un golf R Gira Poco sterzo No 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 Forse non avete capito Mi si sta spegnendo il televisore Ok si torna qua Pazzesco il rumore Il rumore è qualcosa di incredibile Siamo Siamo molto vicini All'estate Madonna 4 giri Meno male che sono 4 giri Ok Oh Eeeh Quanto Vai Bravissimo Vai Vasto golf Mannaggia la puttana Ok Non andiamo un po' di più Ok Grande Qua No Potevo prenderla più forte Ho sbagliato Madonna Abbastanza reattiva Eh Ma perché Vabbè Elaborata così Ci sta Terzo giro Classe A45 in curva Butta giù Diferenziare posteriore Fa derappare Anche se non è proprio un 50-50 Nel nostro caso Sì Ma perché un videogioco Nel caso della classe A Mi sembra che sia 70-30 Oddio O 60-40 Anteriore E 60 Ho un dubbio Voilà Forse con questa gara Passiamo all'estivo Se si può dire estivo Ma poi non ho ben chiaro Come continua Per cambiare stagione Vai Forse avrei dovuto Diminire ancora un po' Le marce Ultimo giro Golf dietro Non ce n'è Non ce n'è Non ce n'è Brother Soffio il naso Secondo Golf Golf R Due ragazze E Megane RS Ottimo Interessante 12.000 1.030.000 Vorrei fare una gara Contro un 89 Fateli arrivare questo video Per favore Lui è anche molto bravo Ma noio Sono arrivati quasi vicinissimi Così alla Lamborghini Devo arrivare scusa 200.000 Ma non cambia niente Mi piacerebbe prendere L'RS3 Per vedere la differenza Un po' più avanti Magari lo faremo Potrei Tanto provare a giudicarmene Una all'asta Così a cazzo Come si suol dire Muzzo Vai Garage Casodaste Audi La compriamo Non ho paura Audi Dove sei RS3 Vai Non c'è la seda Nel secondo me Quanto vuoi 11.000 4.000 Un po' poco 4.000 Non so se 30.000 di massimo Però 30.000 è pochino Originale Ci sta Stiamogli solo dietro Offro Vai Anche se 28 minuti È un po' lungo 21-28 Che cambia Che cambia tantissimo Continuiamo A cannone Vicino qua C'è qualcosa da fare C'è un Velox Lo farò con la classe A Poi Quando userò le Hypercar Lo farò anche con le Hypercar Giro Weyla C'ho anche Sapete cosa Io ho anche un GTR Ok Ok Voglio fare una roba un po' più Vai 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 Non passerò Veloce Uh Le scorte È pronta Gennaio Gennaio Che cazzo Granaio per auto Non gennaio Due stelle Mi sta bene Frena C'è una bella gara qua Secondo me 36.000 Influenza Cioè devo fare Influenzarmi 36.000 volte Sono proprio simpatico Potrei fare lo YouTuber Potrei Comunque Partecipa Rally Cosworth Attenzione Attenzione Usiamo lo stesso In classe A Vediamo un po' che casino succede È pronto il mio gioiello Dimenticato Piacerebbe poi fare una roba manuale Io che non parlo mai Niente webcam Solo lo schermo Macchina bellissima Pure sound Poi lo faremo È un sprint Attenzione C'è il twist Via Via Costicessi Via Costicessi Via Costicessi Vado 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 Opa Eeeh Scusatemi Tokyo 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 ragazzi Tokyo Per favore Per favore Grazie Ok Il naso Aiuto 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 Salvatevi Uh È brutta l'allergia Volo Ho sbagliato Volo Freno Non male i freni Probabilmente Non è l'auto Adatta Con l'assetto Adatto Per questa Vai 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 Non male Va molto forte Vai 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 A prende a fuoco Voila Eia In the lounge Golf R6 No Vabbè Golf Serie 6 R Io lo voglio Subito Ce lo voglio Adesso Lo voglio Subito Volevo prendermi Il Golf FR32 Però Aia Livello 13 No Livello 12 Non male Non male Primavera Dov'è l'estate Scusate Primavera Ruota West Bend Non c'è niente Di leggendario Non prenderò mai Una lira Poteva andare In Volkswagen In Volkswagen Era carino Non mi piace Non voglio La miglioratura Di palla Sapete cosa voglio Fare La dritta Da vantana C'è qualcosa Si c'è questa Ma l'ho già fatta L'ho già fatta L'ho già fatta Dai Si io faccio Vita da horizon Centro a messaggi Casa d'aste Offerta superata Ok Sono convinto La mia vita No Ho sbagliato Cosa c'era Come si faceva Andare No Silenzio Vai al festival Ok Ok Vedete Andando al festival Prenderò adesso All'asta Proverò almeno Gioielli dimenticati Bellissimi Quanti ce ne sono Escort RS Turbo Bella ragazzi A me queste macchine Mi piacciono così Va Silenzio Un po Leggendaria ragazzi Bella Bella Allora Facciamoci Allora Facciamo così Facciamo un'altra Offerta Siamo a 6.000 Mancano Ritira credit Non lo voglio più Ho cambiato idea Ho cambiato idea Voglio invece Volkswagen Scirocco del 2011 O dell'81 Golf del 2010 Ok Non ce n'è una Non ce n'è nessuna Scusa Volkswagen Dove è il Golf Non ce n'è il Golf C'è il Corrado del VR6 Questo è un bel gioco Non ce n'è il Golf 6 Non ce n'è il Golf Del 2010 Duareg Del 2000 E 8 Golf 2014 Ragazzi Non ce n'è Incredibile No dai dai Possibile Ma siamo seri Cioè me lo mette qua Include il Naso Scusatemi Me lo mette qua Ma non ce n'è Ma non ce n'è Allora proviamo a prenderci un R32 A2 2003 40.000 Siamo un po' Cessivo Zio Ma 6.000 La posso anche pagare Da collezione Proprio Facciamo offerta 7.000 Dai Offerta accettata Poi Io sono Sconvolto Che non c'è la macchina Che volevo io Io qua li ho ritirati I crediti Sì vero Sì vero Non mi ricordo Ho un dubbio Sì 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 Allibito Allibito Ve lo giuro Perché non si può comprare Vuol dire che comunque Allora è una roba Interessante Attenzione Ce n'è uno Ce n'è uno Tra quanto scade? Fra un'ora Abbastanza rara Questa macchina qua È rara Va bene Io gli faccio un'offerta Mi faccio un'offerta E vediamo La tua offerta è fallita L'asta è già È chiusa Finita No vabbè ragazzi Ma così è impossibile Ma come si fa? Subito l'han comprata? Io sono sconvolto Completamente Va bene ragazzi Direi che l'appuntamento Di oggi Finire qui Quando torneremo Forse avrò Questo benedetto golf Ci vediamo al prossimo puntamento Quattro tutti Attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti